Al via gli sconti dal 20 al 50 per cento sulle collezioni invernali, i saldi del 2021 nelle marche sono ufficialmente partiti anche se gli acquirenti ancora mancano. Qualcuno si è dato da fare nel primo giorno disponibile il 16 gennaio, poi l'affluenza nei negozi del centro storico di Pesaro è subito calata. A penalizzare fortemente i commercianti il divieto di spostamento tra i comuni, tipico della zona arancione. I saldi iniziati sabato sono partiti bene solo sabato, da domenica già essendo arancioni i saldi come se non ci fossero, la gente gira pochissimo, quella che c'è è quella del comune di Pesaro che gira solo per fare un po' di passi. Noi lavoriamo, non solo col comune, più col fuori comune. Speriamo di recuperare ma quello che è perso purtroppo come abbiamo già visto non si recupera. Noi speravamo nella zona gialla perché l'arancione ci penalizza molto. Qui in centro non c'è stata una grossa affluenza. Adesso speriamo nei prossimi giorni però sabato, visto che sono partiti sabato, sono partiti bene dai diciamo. Dal 20 al 50%, 50% le vecchie collezioni dei vecchi anni è il 20 e 30% quella di quest'inverno. Abbiamo messo le promozioni prima per vedere se la gente si comprava un po', no? Anche con i saldi la gente non compra. Le vendite promozionali erano già partite dal primo dicembre anche se ufficialmente i saldi hanno preso il via sabato 16 gennaio e proseguiranno fino a metà marzo. E tra i commercianti storici del centro di Pesero c'è anche chi ha applicato solo piccole promozioni. Quelli che invece come noi che hanno un articolo giusto tutto l'anno, automaticamente il saldo è più piccolo perché non abbiamo la possibilità di fare sconti su cose vecchie, sono nuove di quest'anno. Abbiamo fatto un 20% su articoli però selezionati di quest'anno, tanto per recuperare un po' di soldi dato che abbiamo avuto un Natale un po' floscio. Ciao! 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 Grazie.